Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che lei si è per prima Buongiorno amici, il clima di mobilitazione speciale delle forze dell'ordine nelle capitali e nelle grandi città europee dove risiedono delle comunità marocchine attesta che, in parallelo alla legittima esultanza dei tifosi per le vittorie della Nazionale del Marocco che si è giudicata alla semifinale del campionato mondiale di calcio in corso nel Qatar, c'è stata una seria preoccupazione per gli atti di violenza e di vandalismo che si sono effettivamente verificati principalmente a Bruxelles e a Parigi, che registrano la presenza più cospicua di marocchini. L'aspetto che a me interessa è che, soprattutto in Francia e in Belgio, gran parte dei marocchini hanno anche la cittadinanza francese o belga, senza tuttavia rinunciare alla cittadinanza marocchina. Ebbene, il fatto che dei cittadini francesi, prendendo pretesto da un evento calcistico, scatenino deliberatamente la violenza contro le forze dell'ordine francesi, e lo stesso discorso vale per il Belgio, significa che questi marocchini, per un verso, si identificano totalmente nell'identità e nella cultura che sostanziano la cittadinanza del loro paese d'origine. Per l'altro, non si identificano e disprezzano l'identità e la cultura che sostanziano la cittadinanza francese o belga acquisita. Il fallimento del mito della integrazione, noi lo tocchiamo con mano tutti i giorni, anche in Italia, un po' ovunque risiedano e operino gli stranieri provenienti da paesi che hanno lingue, culture, religioni, tradizioni non solo diversi, ma anche contrastanti con la nostra civiltà europea, laica e liberale, dalle radici ebraico-cristiane, greco-romane, umaniste e illuministe. Succede nei condomini, nelle scuole, nelle aziende, negli uffici, negli ospedali, nelle strade. Tutti i giorni riscontriamo casi concreti e inequivocabili dell'assenza di basi comuni tra i cittadini autottoni e i cittadini acquisiti o i residenti stranieri. Il divario è ancor più accentuato per il rilievo che assume l'Islam come sistema di potere giuridico e sociale, nel caso specifico dei musulmani. Ebbene, è del tutto evidente che, trattandosi di una conflittualità presente all'interno dei nostri stati, la responsabilità primaria è nostra e dei nostri governanti che hanno elargito la cittadinanza agli stranieri senza esigere in cambio la piena adesione alla nostra civiltà. Sono ormai innumerevoli, probabilmente la maggioranza, i casi di stranieri con la cittadinanza italiana, francese, belga, olandese, tedesca o britannica che non sanno una parola delle lingue europee, anche dopo 30 anni di residenza nei nostri stati, che non condividono i nostri valori, che non rispettano le nostre leggi, che non ottemperano le nostre regole, che odiano la nostra civiltà e che in definitiva ci disprezzano nella nostra integralità, pur continuando a beneficiare di un tenore di vita e di un livello di libertà inesistenti nei loro paesi d'origine. Cari amici, ricordiamoci che nella storia gli imperi sono finiti e le civiltà sono scomparse non per la forza dei nemici, ma per la debolezza intrinseca dei cittadini autottoni, non per omicidio ma per suicidio. La casa della civiltà promuove il riscatto della nostra forza interiore, recuperando la certezza e l'orgoglio di chi siamo, per essere pienamente noi stessi dentro casa nostra. Solo così potremmo farci rispettare ed esigere che tutti coloro che volontariamente scelgono di condividere la nostra casa comune lo facciano comportandosi né più né meno come sono tenuti a fare tutti i cittadini, ovvero devono conoscere adeguatamente la nostra lingua, devono convergere con la nostra cultura, devono rispettare le nostre leggi, devono ottemperare le nostre regole. Tutto dipende da noi, il presente e il futuro della nostra casa comune è nelle nostre mani. Andiamo avanti a testa alta e con la schiena dritta, forti di verità e con il coraggio della libertà. Con l'aiuto del Signore insieme ce la faremo a far rinascere la nostra civiltà, a riscattare l'Italia, a salvare gli italiani. Buongiorno amici.